E' una donna determinata e capace e che ha fatto un percorso sia scolastico. Torna a casa! Lei si è furia! Torna a televisione! Tu hai cominciato a dire a dire arrivata! No! 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 E' beh, sono quelli che l'hanno fatta fuori da tanto, sono quelli che hanno esagerato. Adesso la quarta puntata della nostra inchiesta sul mondo dell'aperta età. Le manate, una pasta pesca fatta in casa, con un liga di pane e fissa di materia. Le persone d'oro hanno questa capacità, comunque anche a seguito di capacità, di trasmettere energia positiva. Questo è vero, effettivamente a lavoro, quando d'accordo con tutti. Per oggi che giornata, mamma mia che giornata, non sto in piedi, finalmente la poltona. Un rullato di ringraziamenti, poverine, le buttano dei cammini, e questo ne si battono i coglioni. Se avessi un po' di spazio, ma con 35 metri quali. Chissà Mariella, chissà Mariella, si sta guardando, lei ha un sacco di spazio, le farebbe pure bene. Ma quel cretino di mio cognato, che cosa ci sta a fare ancora insieme? Secondo me è sincera, anche se mi sembra assurdo, che vadano lì, e si innamorino davvero. Ma quello che è normale, innamorarsi, stare assieme, dimostrarlo al mondo. È normale. E poi lei è bella, oh sei bella, e alta, magra, di noi cambieranno pure loro, cresceranno pure loro. Io, per esempio, io sto benissimo da solo, non ho obblighi, non ho condizionamenti da solo, senza moglie, senza figli. Io sto benissimo, è certo che piange, perdere il papà, per i cianoni, e un suo rapporto per tutti. Barbara, bravo, uomo, il santo che beva, all'uncavo le mani, all'uncavo le mani, no, 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 caro mio, ti sei giusto, scusò. Sì, 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 è così, è sicuramente così, sì. Si voleva bene 3.000 euro, 3.000 euro, un sistema d'allarme, con il te del comando. Quello che sta succedendo, uno non è più sicuro neanche quando va a fare la spesa. Ah, perché non siamo mica noi passi, sono loro, sono loro, ma cosa fanno questi? Arrivano questi, quando solo fare i fili, disgrazie e fili, schifezze e fili. No, non siamo mica noi passi, sono loro che devono starcene a casa, come faccio io, così si risolve. Ah beh, certo, magari anch'io faccio schifo, certo, ma qui dentro dentro a casa mia, nessuno mi vede, non ho mai l'impatto, male una mosca, non si è mai lamentato nessuno, ti fiedi, ti fiedi, ci ricetta, ma la pena te esisto. Sì, le vecchie trite ritrito, ma io, io mi diverto, dove io cadrei subito, e con questa pancia, ma quando ho smesso di giocare a calcio, loro non cadono mai, sul torrello non cadono mai, mai, e mi hai visto una cadere, mai, e mi hanno messo di rispondere, e se cadono da un cero, se sto attento, vedo anche l'unità a finire. Secondo me oggi vince la squadra delle miote. In una gara come al solito fra bionda e more, sono più. In una gara come al solito fra bionda e more, sono più. In una gara come al solito fra bionda e more, sono più. In una gara come al solito fra bionda e more, oh, finalmente il momento musicale, con l'orzesta di gay e le mo, e il benedì in latino americano. Quanto è bello questo ritmo, che ricordi questa melodia. La piscina cava sempre, il giro Giovanni alle vendegnie. È passata una vita, Ma quanto è bella mi mi invoglia di ballare anche da solo, di muovermi e di sudare Ma guarda il pubblico tutti quanti in piedi a battere le mani e cantare Ballano tutti, attivano tutti, ridono tutti Lo psicologo, le ballenze, il segreologo, il giornalista, i calciatori Il consigliere comunale, ballano tutti, attivano tutti E si passano il ritrovo da mano in mano e poi il preghino Il preghino come a Capodanno l'anno scorso metà notteggiato frigo Tira il preghino, ordinato sempre in fondo, neanche un passo poi in posto Se nel pubblico balla e coraggimate si visce la carovana L'orchestrina incalzante, ora attacca con la pagarena Mani avanti, mani indietro, sulla testa, sotto i bianchi Scronatine, manzo avanti, quanti sono? Sono cento in telecabre, non si lasciano sporgire il movimento E salutano chi sia a casa, i parenti, i correni, i conoscenti Chi sa come sono? In giri, in idiosi, dieci giri, venti giri Nella studio in ruffina indiana, ordinati e rumorose E Luca, mi ha pulo fuori, come va e come vuoi E mi ha pulo fuori, come va e come vuoi E è la lista, io mi nono pat cetати E mi mati dall'anno educato, non li vence Grazie a tutti.